Rieccoci di nuovo ragazzi con un nuovo video e come da titolo Lookalike Sono contento ogni volta quando torno con questi tipi di video perché sono croccanti, particolari Quindi danno un po' di brio, un po' di diversità a questo contesto di ProLab sempre molto statico E allora torniamo con il Lookalike rosa di Katy Perry Come da titolo è una cantante, comunque una showgirl importantissima, super conosciuta in tutto il mondo Non è stato semplice ricrearla proprio perché lei comunque ha ad esempio delle capigliature che cambiano in continuazione Sia come stile sia come colorazione quindi non è stato facile optare nel miglior modo Tutte le scelte di ovviamente prospetto facciale Ovviamente dobbiamo ringraziare come al solito il signor Orion che si è dedicato al 100% per riprodurre questa magnifica cantante E non è stato facile, non è stato semplice, sono stato lì ad osservarlo per capire anche io come settarlo al meglio Speriamo che comunque il risultato finale vi aggrada Momento di croccantezza ci vuole ragazzi quindi ricreatevela magari qualche giorno perché no È un modo simpatico per giocare a ProLab con i vostri amici e quindi ragazzuoli basta chiacchiere Andiamo a vedere più nel vivo come ricrearla e quindi entriamo in game insieme Pronti? Via! Rieccoci ragazzi quindi in game andiamo a vedere come ricreare Katy Perry Non è stato assolutamente facile come già detto poco fa E andiamo a vedere subito quella che è la versione di questo player in ambito ovviamente estetico Andiamo sulle info e abbiamo nome Katy, cognome Perry Qui abbiamo tutte le info riguardanti la giocatrice di ProLab Ovviamente qui copiate come al solito E ovviamente andiamo su fisico Corpo, allora altezza 1,73 x 57 kg Ovviamente il sesso maschile La posizione dipende da voi Ovviamente andiamo sulla testa Che è la fase più importante La selection è la numero 3, riga 2 Partiamo da questa per poi modificarla Andiamo su tono e carnagione La selezione vedete è questa qui Partendo da sinistra è la medesima Facciamo quarta ultima seconda riga Andiamo a vedere adesso gli occhi E abbiamo la selection della prima riga Quindi selection numero 3, riga 1 Andiamo sul colore che è importantissimo Andiamo a selezionare il primo colore Nella riga che ci si prospetta in questo modo Ed è praticamente un blu Andiamo a vedere sul transform cosa succede Abbiamo una selection particolare Un transform che vedete è tutto riversato in alto a destra Sulla parte della posizione dimensione Invece è riversato tutto in alto a sinistra Per esporgenza e palpebre Rivediamo il colore qui sotto E passiamo adesso alla fase delle sopracciglia Sopracciglia che sappiamo benissimo È un po' limitata questa sezione Però andiamo con la selection number 1 E andiamo sul transform Il colore conta poco E per quanto riguarda ovviamente la posizione e separazione Abbiamo giù vicine Esporgenza e rotazione Molto simile al default Per quanto riguarda ovviamente il naso Andiamo sulla selection numero 1 Quindi riga 1 Non vi potete sbagliare ragazzi È il primo che vi appare Andiamo sul transform E vedete che comunque non è dissimile dal default Dovete solo copiare e vincolare la selection Allora per quanto riguarda la bocca Riga 1 Selection number 4 Andiamo sul transform E vedete che comunque dimensioni bocca Siamo più sul grande all'infuori Che giù e piccole Quindi un po' tutto riversato in alto a destra Per quanto riguarda invece la sezione successiva Che è guance e macelle È stato veramente difficile selezionare la scelta giusta Forse è proprio questa Numero 1 Riga 2 E il transform è così Guance fuori piccole E mascella praticamente molto simile al default È molto importante come sempre la pienezza Che è riversata un po' verso il meno Per quanto riguarda la sezione successiva Che è il mento È questa qui L'ultima della riga 1 Transform E vedete che abbiamo praticamente piccole dimensioni Per quanto riguarda sporgenza e pienezza In alto a destra Quindi fuori piccole Passiamo adesso alla selection delle orecchie Ultima selection Andiamo sul transform Anche se con questi capelli cambia poco Se cambiate i capelli ovviamente copiate Allo stesso modo Perché ovviamente sono visibili E passiamo ai capelli che è l'ultima selection Come sapete Lei ha portato tutti i tipi di capelli possibili Immaginabili tutti i colori Quindi veramente qualsiasi cosa va bene C'è anche questo va bene Anche questo sicuramente va bene Perché lo porta spesso Va bene anche quello con i capelli raccolti Tagliati Anche questo Quindi ragazzi Qualsiasi cosa mettete per lei È veramente Fattibile Anche quelli corti adesso porta Quindi forse Forse ho questo Ho questo Potrebbe essere per lei Io con l'altra selection Ho selezionato questa Però cambia poco È sempre lei Allora Andiamo a vedere l'ultima Soluzione Che è quella delle animazioni E quella che ci interessa di più Che è la stile corsa Allora Per lei Io selezionerei Un ritmata Sì la vedo Bella cattiva così Oppure 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 testa bassa Però forse ritmata È la miglior soluzione per lei Secondo me E E dopo questo lo sapete Siamo alla chiusura Spero che vi sia piaciuto Il lookalike rosa E andiamo Ai saluti Ragazzi anche per questo video Abbiamo terminato Spero che vi sia piaciuto Lasciate un like Attivate qua sotto La campanellina Per questi tipi di video E molti molti altri Mi raccomando Le vostre interazioni Le vostre impression Sono fondamentali Per capire al meglio Quanta crescita può fare Questo canale Ma soprattutto Il pro lab in generale Quindi ragazzi Per oggi abbiamo terminato Condividete il video Se vi è piaciuto E niente Un saluto da Johnny Ciao